piccolo test su dieci giovani quanti fanno sesso con il preservativo solo 5 e gli altri rischiano e cosa rischiano una gravidanza indesiderata e ben oltre 20 infezioni sessualmente trasmissibili ora fermatevi a immaginare ci sono due ragazzi in una stanza non hanno neppure 15 anni ma già stanno arrivando al loro primo rapporto useranno il preservativo la risposta dipende da tutti noi perché sta a noi educarli affinché facciano la scelta giusta proteggersi non importa cosa faranno in quella stanza l'importante che ci sia un preservativo a proteggere il loro amore la loro salute e per fare in modo che non manchi mai dobbiamo tutti parlare di sesso protetto sempre di più senza imbarazzo a casa sui social nelle scuole ovunque dal 2021 la comunicazione sui preservativi ancora più libera perché sempre più persone scegliano di proteggersi durex è pronto a parlarne ancora di più unitevi a noi in questa conversazione